All'esito della sottoscrizione della relativa intesa, ha trovato formalizzazione l'istituzione del Presidio Territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilianza, che sancisce la collaborazione tra la Prefettura di Catanzaro, la Prefettura di Crotone e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro e Crotone, recependo i contenuti del protocollo nazionale stipulato tra il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno e della Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il predetto Presidio ha competenza interprovinciale e si articola in due sottosezioni, Catanzaro e Crotone, con un contingente di personale, per ciascuna delle parti, giudicato coerente con le esigenze attuative nell'ambito locale di riferimento. Si tratta di un organismo che, nella promozione di misure unitarie e coerenti con il contesto territoriale in cui opera, ha il compito di supportare le amministrazioni locali titolari di interventi a valore su risorse PNRR nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti, nel duplice fine di sostenere le fasi di avanzamento e di condurne una tentazione per la prevenzione e contrasto dei tentativi di condizionamento criminale. Una specifica attività formativa, rivolta al personale degli enti locali, completerà la generale azione di sussidio, rivolta pure alla pronta rilevazione di eventuali criticità e dalla definizione di linee condivise ed interventi d'ambito per il progressivo superamento.